Le tue idee sono la sfida più grande. Crescono passo dopo passo, imprevisto dopo imprevisto. Perché il valore più grande delle tue idee oggi è poterle realizzare. Fidi Alta Italia è un confidi che ti aiuta ad accedere al credito creando risorse a sostegno della tua impresa. Fidi Alta Italia, quando impresa significa ancora conquista. Fidi Alta Italia